La giornata di oggi sull'interoperabilità è stata molto interessante, c'è stato un bellissimo confronto, temi di un certo spessore, frequenza e interesse. Senz'altro un'iniziativa riuscita, noi siamo molto soddisfatti, la sfida è lanciata ed è stata accolta ed è partecipata. Quindi senz'altro la strada è tracciata e speriamo seguano altre iniziative simili a questa.